Dopo la guida tecnica, lo Scafati Basket ha ufficializzato anche il primo innesto per il roster della stagione 2020-2021. Valerio Cucci, in uscita dalla poderosa Monte Granaro, è stato ingaggiato dal Club dell'Agro. Via ad una nuova avventura con coach Alex Finelli, che al canale 696 presenta le emozioni del ritorno a Scafati. Sono felice di tornare a Scafati. Ringrazio la società e il patrono Longobardi per la fiducia e per l'opportunità. Scafati a grande tradizione, Scafati a ambizione e a struttura organizzativa. E mi piace l'idea di diventare un punto di forza del Club per contribuire a costruire una stagione importante. Fatta di lavori in palestra, di determinazione, di ambizione, di energia, di entusiasmo, per costruire una chimica nella quale ogni giocatore potrà dare il proprio contributo per raggiungere traguardi importanti. Mi ricordo le mie esperienze a Scafati d'avversario. La prima stagionina 2 nel 2001, semifinale play-off, ricordo un palazzetto esaurito, così come le stagionina 1, quando incontravo Scafati da allenatore di Monte Granaro qualche anno fa. E ricordo sempre un ambiente speciale, fatto di palazzetto esaurito, tifo caldo e grande sostegno alla squadra. E anche qui mi piace l'idea che arriveremo ai play-off di questa stagione con un ambiente di questo tipo, pronti a giocare ogni nostra possibilità sul campo.